Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati. Oggi è lunedì 2 marzo 2015, questa è la rassegna stampa di Fanotv alle 7.30 che cominciamo subito con il santo del giorno, lo vediamo. Oggi è Sant'Angela della Croce, il sole esorto alle 6.45 tramonterà alle 17.56. Vediamo il tempo previsto per oggi, intanto questa è la fotografia di Fanotv alle 7.28 del mattino con la temperatura che è una temperatura normale, niente di che, insomma 10 gradi. Tra qualche giorno è previsto anche l'arrivo di un'altra sciabolata artica, un po' di freddo che farà calare vistosamente le temperature, ma diciamo che per il momento ci godiamo questi 10 gradi al mattino. Oggi, lunedì, dicevo, vediamo che cosa prevede la protezione civile delle marche. Avremo cielo nuvoloso con addensamenti più consistenti nelle zone dell'entroterra, non si escludono brevi isolati piovaschi limitatamente alle zone montane. Le temperature sono in aumento. Per domani, martedì 3 marzo, avremo cielo parzialmente nuvoloso con temperature in diminuzione. È previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle marche, con tempo perturbato tra le giornate di mercoledì e venerdì, con temperature, come dicevo, in decisa diminuzione. Allora, cominciamo a leggere i giornali, però prima di passare sui giornali, siccome ci sono state le primarie ieri, i dati aggiornati li possiamo leggere soltanto sul sito internet, per esempio, di Occhio alla Notizia. Il nostro sito internet dove, come potete vedere da soli dalla prima pagina, Luca Ceriscioli, l'ex sindaco di Pesaro, ha vinto le primarie con il 52,53%. E questo è il dato definitivo. Allora entriamo nella pagina del nostro sito internet, che è a vostra disposizione, digitando ovviamente sul browser www.occhilanotizia.it. Dunque, Luca Ceriscioli ha vinto le primarie del centro-sinistra nelle Marche con il 52,53% dei consensi, ovvero pari a 22.760 voti assoluti, battendo Pietro Marcolini, come lui del PD, che si è attestato al 46,11%, raccogliendo 19.979 voti. Ninel Donini, candidata dell'IDV, si è invece fermata all'1,35%, prendendo 587 voti. I dati definitivi sono stati diffusi dall'Ufficio Tecnico Amministrativo Regionale, i votanti sono stati 43.588, i voti validi 43.326. Ora, nella provincia di Pesaro e Urbino hanno votato 12.237 votanti. Poi, altri dati che potrebbero interessare in provincia... Possiamo fermarci qui, poi tutti i dettagli li potrete leggere sul nostro sito internet. La dichiarazione di Ceriscioli ha vinto il cambiamento, ma questa la vedremo anche tra un istante sui giornali, anzi subito sui giornali. Cominciamo dal resto del carlino. Ceriscioli, Ceriscioli sale sul tappeto volante. Un buon sindaco farà bene, commenti e retroscena ai vari seggi del Partito Democratico durante le votazioni. Molti pensavano che i litigi all'interno del partito portassero alla diserzione. Invece tanta gente è andata a votare. I volontari adibiti ai seggi hanno dovuto filtrare il DNA dei votanti, rifiutato chi era smaccatamente di forze diverse. Questo per evitare l'inquinamento del voto. Accettato ex oppositore, l'ex oppositore Walter Eusebi, che vedete nella fotografia qui sotto. Urbino ha scelto Pietro Marcolini, ha vinto lui. I dati dicono che ha vinto lui, nel senso che ha preso più voti degli altri due. Però, insomma, i dati dicono che alle 22 la chiusura dei seggi i votanti sono stati 955. Marcolini ha ottenuto 509 voti, Luca Ceriscioli 417. Mentre a Fermignano Ceriscioli è stato bocciato. L'altra pagina del resto del Carlino, Luca fasteggia la vittoria nella sua terra. Ora, dice Luca Ceriscioli, voglio spacca come avversario. L'ex sindaco trionfa in provincia, 5.600 voti in più di Marcolini. Ceriscioli non ha ottenuto la maggioranza dei voti a Urbino, come abbiamo detto, Macerata Feltra, Sant'Angelo Invado, Mercatino e Saltara. E Luca Ceriscioli non promette assessorati ai due sconfitti, né a Marcolini quindi né a Ninel Donini. Non ci sono obblighi, ha detto Ceriscioli, e quello che ho detto in campagna elettorale resta valido. Non c'è nessun accordo e i suoi fedelissimi vanno oltre. La rivoluzione è partita, staremo a vedere. La cronaca. La cronaca, ieri sul nostro sito abbiamo battuto la notizia intorno alle 15.10 della tragedia, la tragedia avvenuta al poligono di tiro di Muraglia. Muore al poligono, aveva 27 anni, Lorenzo Riminucci colpito la testa dal proiettile della sua pistola. aveva sparato quasi 57 colpi, ne mancavano due per finire. Il penultimo lo ha ucciso, una tragedia che si è consumata ieri mattina alle 9, al poligono di Pesero in strada dei condotti. Lorenzo Riminucci, 27 anni, celebre di mercatello sul Metauro, stava ultimando la sua ora di tiro ma improvvisamente è crollato a terra, colpito da un proiettile alla testa. La povera vittima la vedete in queste immagini, mentre qua alcuni scatti dell'arrivo dei carabinieri e dell'ingresso del poligono dove si è consumata la tragedia. Andiamo sulla pagina di Fano, nuovo guasto alla piscina di Nisalvalai, tosse e irritazione, il bagnino la chiude, sballata la centralina che regola il pH dell'acqua, oggi di nuovo aperta. L'assessore del Bianco, visti i continui problemi, spero che il gestore risolve il tutto con tempestività. Se avete un conto alla banca di credito cooperativo, sappiate che oggi scioperano i bancari del credito cooperativo, ci sarà una manifestazione in piazza 20 settembre, in questo articolo parla anche la sindacalista, fanno i lavoratori delle BCC del nostro territorio, manifesteranno in piazza a difesa del sistema della BCC e per il loro rilancio e la difesa dei principi mutualistici che hanno fatto nascere il sistema delle banche di credito cooperativo. Il calcio con la vittoria del Fano, 1-0, una vittoria difficile, un secondo tempo complicato, un primo che l'Alma ha gestito bene, il secondo un po' in affanno, però il solito Sivilla che infila in sacca il dodicesimo gol, Fano è a meno 6 adesso dalla prima in classifica, quella maceratese che è stata fermata sullo 0-0, quindi si riaccendono le speranze di poterla raggiungere e soprattutto, come dicono i tifosi, ci si crede e quindi insomma si spera ancora di poter vincere il campionato. Si è giocata ieri la ventiquattresima giornata di Serie D, l'Alma che vince dunque 1-0 con il Termoli, missione compiuta e Granata soffrono con i Molisani, ma avvicinano la vetta. Vedete in questi tre scatti i momenti importanti, in cui i momenti importanti, così come il momento dell'esultanza dopo il gol di Sivilla. Alessandrini, l'allenatore, dice dura come mi aspettavo, ne siamo usciti mettendoci il carattere, mentre Sivilla e la dedica per un amico. Torta verso invece la squalifica, le pagelle, Ginestra, il portiere respinge tutto, Lunardini allenatore in campo, mentre la di Pesaro ha pareggiato 0-0. Andiamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro si spara un colpo di pistola al poligono, esplode 49 proiettili, con il cinquantesimo si colpisce la Tempia, muore a 27 anni dopo tre ore di agonia. I ladri di Merendini colpiscono invece al liceo Marangoni di Pesaro, mentre il Cagliese dell'anno, in memoria di Silo, Guidi è scomparso un anno fa, Sileno Guidi, morto a 51 anni, esattamente un anno fa il premio è stato consegnato alla famiglia in un teatro affollatissimo. Questa dodicesima edizione del riconoscimento è andata anche alle donne dell'Associazione Olinda. A centropagina, Fossombrone, rave party sulle cesane, all'alba scatta l'allarme, sarebbero almeno 30 ragazzi segnalati, dotati di gruppo elettrogeno, per produrre energia, hanno sparato musica così forte, da raggiungere, pensate, l'abitato. Sul posto i carabinieri di Fossombrone, che hanno identificato alcuni giovani. Al momento nessuna sanzione. La pagina di Fano del Corriere Adriatico, carta del coraggio al sindaco e al vescovo. Gli scout a Gesci consegnano il documento, poi armati di guanti e rastrelli, si sono messi a pulire la città. Poi, sempre dai quotidiani, chiudiamo con il messaggero di Pesero, primarie, ceriscioli, in testa, regione. L'ex sindaco di leggero vantaggio su Marcolini, che vince ad Ancona città, alle urne, nelle Marche, in 40.000. Il segretario del PD Comi parla di successo straordinario. Poi, i bancari della BCC manifestano in piazza 20 settembre a Fano, la cronaca, colpo di pistola alla testa, giovane muore nel poligono. E poi, svelato il mistero dell'isippolo. Storico dell'arte Paolo Moreno, ristabilisce la verità sulla statua rivenuta a Fano e conservata alla Ghetti Museum di Malibu. E allora è importante andare a vedere e leggere anche questo articolo che pubblica il giornale quotidiano romano sulla pagina di questa mattina. Andiamo sulle pagine interne. Da Pesero, il Piale Trieste, il progetto tralascia il sistema fognario. Crescentini di Siamo Pesero solleva perplessità. Se si interviene, conviene farlo fino in fondo. E poi ancora altre notizie. Eccolo qua. Nave di Novilara, salvate il timone. Oliva tra i promotori del progetto. Lì c'è la storia della Stele. Guardate in che condizioni disastrose è la nave di Novilara. Le condizioni del relitto al parco delle navi di Cattolica ulteriormente peggiorate. Poi ancora, povertà, un'emergenza continua. Il sindaco e la Caritas di Pesero. Montellabate, ogni giorno, file di persone in difficoltà economiche. E ancora dalla pagina... Possiamo fermarci qua? Sì, ci fermiamo qua. La pagina di giorno e notte. C'è una notizia su Fiorello. Va bene. Ok. È tutto. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.